I rifiuti tunisini di ritorno in Italia, nello specifico prima al porto di Salerno e poi a Persano, stanno creando una vera e propria bufera. I sindaci della Piana del Sele si sono rivoltati contro le istituzioni che hanno deciso di portare il contenuto dei 212 container nell'area militare di Persano. Chiedono che ciò non avvenga. Non solo, la consigliera regionale Marimus Caracche, che per prima ha sollevato il problema due anni fa, quando furono sequestrati questi rifiuti, ha definito folle che la caratterizzazione degli stessi non venga effettuata al porto di Suss, dove sono sotto sequestro, ma al ritorno in Italia. È una follia, ha proprio detto la Muscara, occorrerebbe controllare alla partenza di che rifiuti si parla. Anche la SRA, l'azienda di Polla, e il suo amministratore delegato Antonio Cancro, hanno chiesto di partecipare con un perito di parte alla caratterizzazione dei rifiuti. In una lettera inviata a tutti gli enti preposti, hanno chiesto di sapere il luogo e l'orario dell'arrivo di questi rifiuti per poter partecipare alla caratterizzazione e poter far rispettare, si legge nella missiva, i propri diritti.